Diceva che bisognava aprire tutto, senatore Salvini non se lo ricorda dopo Codogno quando andava dicendo che bisognava chiudere, bisognava chiudere, bisognava aprire adesso dice che bisogna chiudere, quando andava in giro per Milano nei centri commerciali alle imprese dobbiamo aprire tutto, ma questo glielo dico, senatore Salvini, glielo dico perché lei è un monumento all'incoerenza, è un monumento all'incoerenza e allora colleghi, io posso fare finta che qui le cose le pensiamo tutti allo stesso modo ma io non faccio finta di pensare che sono allo stesso modo queste sono delle evidenze che sono passate storicamente voi non vi potete, alcuni di voi non si possono presentare qui scusate, non mi pare che questo sia il momento della polemica abbiamo parlato di collaborazione, allora abbassiamo i toni abbassiamo tutti i toni, per cortesia, per cortesia prego questo Presidente lo dico? lo dico perché su queste senatrice Rauti, se lei potesse cancellare quello che ha detto la Meloni forse non lo può fare, quindi rimane agli atti però, per cortesia io penso che adesso fare colleghi tenete le mascherine e smettete di urlare prego grazie a tutti 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 Grazie.